ciao a tutti vi è mai capitato di raccogliere i primi pochi peperoncini maturi e chiedervi cosa farne perché se avete poche piante i primi peperoncini a maturare non basteranno per alcune preparazioni ma non preoccupatevi oggi vi darò alcuni consigli per conservarli al meglio fino a quando non avrete una quantità sufficiente per le vostre ricette preferite il modo migliore per conservare i peperoncini è nel frigorifero ad una temperatura compresa tra i 4 gradi centigradi e i 6 gradi centigradi preferibilmente non nei cassetti in basso perché sono umidi e preferire invece i ripiani superiori così facendo si manterranno freschi a lungo ma non fate l'errore di conservarli nei sacchetti di plastica o nei contenitori di plastica ermetici in quanto l'umidità favorisce la formazione di muffe piuttosto utilizzate della carta da cucina oppure un sacchetto di carta che assorbiranno l'umidità in eccesso e manterranno più freschi e asciutti i peperoncini quindi man mano che i peperoncini maturano raccoglieteli e conservateli in frigorifero nel giro di un paio di settimane avrete un quantitativo sufficiente per le vostre ricette e a questo punto avrete un paio di opzioni essicazione per ottenere peperoncini secchi da utilizzare come spezia o per creare dei mix e qui vi lascio un video tutorial fermentazione per ottenere peperoncini fermentati con cui ottenere salse gustose e salutari grazie ai probiotici e qui vi lascio un video tutorial e congelazione ideale per ottenere salse e sughi in qualsiasi momento dell'anno e qui vi lascio un tutorial logicamente per la congelazione non è necessario attendere di avere un certo quantitativo ma si possono congelare man mano che li raccogliamo però prima di procedere all'essiccazione, alla fermentazione o alla congelazione lavate accuratamente i peperoncini asciugateli bene tagliateli a metà per lungo e verificate che all'interno siano sani in caso contrario eliminateli e ricordatevi che quando aprite i peperoncini è meglio utilizzare dei guanti meglio ancora quelli nitrile che offrono un'eccellente barriera protettiva contro l'irritazione cutanea provocata dalla capsaicina che si trova in maggior concentrazione nella placenta quella parte interna più chiara dove sono attaccati i semi e nel caso di un contatto accidentale con la capsaicina evitate di strofinarvi gli occhi o di toccarvi le parti delicate ad ogni modo sarà sufficiente lavarsi accuratamente le mani a questo punto potrete conservare i semi per l'anno prossimo quindi toglieteli e metteteli ad asciugare su un pezzo di carta da cucina dopo qualche giorno li potrete trasferire in un sacchetto di plastica o preferibilmente di carta e ricordatevi di scrivere il nome del peperoncino in questione sulla bustina nella home del mio canale youtube troverete una playlist dedicata alle ricette che ho ottenuto seguendo questi tre metodi di preparazione andate a darci un'occhiata ed eccoci alla fine di questo breve video spero che vi sia d'aiuto se avete domande come sempre lo spazio sotto al video è tutto vostro grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti grazie grazie grazie